Cari amici, la pagina Vicenza nascosta riporta la loggetta Valmarana che si trova ai giardini salvi a Vicenza. Quando il turista arriva e scende dal treno, procede per Viale Roma e si trova di fronte alla fine un parco che appunto sono i giardini salvi e lì si trova la loggetta Valmarana. Perché abbiamo messo questa foto nella pagina Facebook? Perché i Valmarana sono stati una grandissima famiglia di Vicenza, hanno avuto vari rami e nella seconda metà del Cinquecento un certo Ottaviano Valmarana, convinto che la moglie lo tradisse, aveva cercato di farla condannare per adulterio senza riuscirci. Allora, quindi vedete come la gelosia, il senso di possesso è sempre esistito. Allora cosa fa Ottaviano? Siccome aveva come tutti i nobili anche delle proprietà nelle campagne limitrofe, ha deciso di rientrare a notte fonda, anziché all'ingresso principale della dimora, da una finestra nella speranza di cogliere sul fatto la moglie. Però cosa succede invece? Che un servo lo uccide con una pietra e di conseguenza è finita la storia. Però qualche tempo dopo questo servo venne a sua volta ucciso fuori dalle città di Vicenza, per cui si ipotizza che sia stato un sicario al soldato dalla moglie. Quindi vedete come le vendette trasversali tra coniugi, pensate alle separazioni terribili in cui si fanno la guerra, esistono oggi ed esistevano anche allora. E concludo questo video con una citazione che mi ha sempre fatto sorridere. Quando la gelosia fa festa ci sono più corna nella mente che sulla testa. Buona serata.